A parte oggi il primo evento formativo di Taras in programmazione, il primo evento in cui nostra mission principale è informare i giovani sulle opportunità della programmazione 14-20 e sulle opportunità che nascono nella creazione di start-up. Sono 20 eventi, li abbiamo definiti i giovedì di Taras, partiranno a gennaio e avranno aree tematiche specifiche. Oggi abbiamo come ospiti Antonio Riccio, referente area sud di Unicredit per la piattaforma Start Lab e Michele Carriero che ci illustrerà tutte le iniziative aperte sulla programmazione 14-20. Rispondendo a un bando di Fondazione con il Sud su ambiente e turismo, il progetto Taras è stata la risposta di programma sviluppo e di una rete di partner che pone al centro l'obiettivo di creare impresa nel settore turistico e così una serie di incontri anche con testimoni privilegiati consentirà a giovani che hanno voglia di avviare impresa e quindi fare turismo di trovare un'occasione importante per potersi confrontare, poter perfezionare la propria idea, poterla avviare concretamente.